Dubbi e timori sulla 5G riempiono di nuovo la sala polivalente di Via Maris, dove i comitati ambientalisti della zona e i cittadini, già vincitori contro il progetto di compostaggio, hanno ascoltato gli interventi di Giorgio Cinci Ripini, dell'Associazione Elettrosensibili e Federico Balestrieri dell'ISDE. Preoccupa innanzitutto la carenza di informazioni sull'inserimento di Crotta, tra i 120 comuni italiani dove si sperimenterà il 5G, anche se lo IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, considera il 5G potenzialmente cancerogeno, quindi alla terzo livello, dopo le cause certe e quelle probabili. Il pericolo riguarderebbe il tumore al cervello, a causa di un eccesso di esposizione alle onde emesse dai cellulari. L'agenzia statunitense si basa sullo studio compiuto da Interfon, sovvenziato dalle compagnie telefoniche, che presentano dati diversi, più bassi di quelli dello scienziato svedese Lennart Hardell, che parlava di un rischio di tumore per chi fa telefonate col cellulare per mezz'ora al giorno per dieci anni. Il segnale 5G, ovvero il wireless di quinta generazione, sarà rilanciato da ogni modem all'interno delle case e da tutti i punti luce LED, compresi quelli installati da Citeilum a Cremona, già abilitati per il 5G. La Smart City dell'Avvenire, sulla quale tanto ha insistito il comune di Cremona, dunque già preoccupa con le sue antennine del 5G, disseminate ovunque, ogni 40 metri, con l'internet delle cose che sta per fagocitare tutta la vita quotidiana. Molti crottesi quindi vogliono saperne di più, e anzi hanno già iniziato a premere sui candidati consiglieri comunali, oltre che sul sindaco Inpector e Sebastiano Baroni, perché studino e si informino sui rischi del futuro prossimo. E già sono partite le e-mail verso il comune.